buongiorno buon sabato mattina benvenuti alla rassegna stampa di fano tv sono le 7 e 30 un saluto a tutti voi magari che state sorseggiando il primo caffè della giornata e anche un saluto affettuosissimo a quelli che ci seguono in replica nel corso della mattinata naturalmente questo è il primo appuntamento con l'informazione della giornata per fano tv e poi insomma seguiremo questa sera il telegiornale alle 20 e 30 però prima di guardare i giornali che cosa ci aspetta in edicola santo del giorno e previsioni del tempo oggi è sabato 6 febbraio san paolo michi e compagni martiri il sole è sorto alle 7 19 e tramonterà alle 17 e 25 e vediamo il tempo per questo fine settimana quelle per oggi sabato sono previsioni rassicuranti perché sereno poco nuvoloso per transito di velature in selata nessuna precipitazione temperature nei minimi e stazionarie nei massimi quelle nei minimi sono in aumento quindi temperature in ascesa previsioni per domenica vedete compaire una nuvolosità parziale però nelle prime fasi della giornata però non c'è simbologia di pioggia se non all'interno e sui rilievi quindi nel pomeriggio brevi possibilità di piovaschi però sul monte feltro anche qui in questo caso le temperature sono in aumento vediamo come si preannuncia l'inizio della settimana con le previsioni per lunedì cielo nuvoloso con nubi stratificate maggiori addensamenti sulle zone interne anche qui le precipitazioni dovrebbero essere soltanto sul crinale appenninico e le temperature in lieve aumento e quindi questo è il insomma l'escursus meteorologico per le prossime 72 ore vediamo i giornali partiamo dal resto del carlino e dall'intervista dall'evento mediatico che più fa discutere in queste ultime ore e guardiamo l'intervista a colui che è l'autore il mandante della freggiatura di lucia annibali con l'acido ha parlato in diretta rai 3 l'intervista è stata mandata appunto sui canali rai e il padre di lucia dice sentite le solite falsità volevano far volevano far saltare l'accusa per omicidio lucia annibali dice esagerato lo spazio dato alla parte sentimentale della vicenda però non l'ha vista l'intervista dice appunto ho voluto mangiare semplicemente una pizza a parlare nelle pagine del resto del carlino in questa intervista è il padre di lucia luciano annibali e dice lesa la dignità un misero tentativo di vedere la dignità di lucia siamo molto dispiaciuti e nella pagina precedente invece quindi la pagina due del resto del carlino c'è una insomma un risentito procuratore manfredi palumbo che insomma dice che è illegittima la via libera all'intervista leggete anche la pagina precedente di quella che vi ho fatto vedere vedrete che c'è proprio anche la considerazione abbastanza forte del procuratore poi si parla nelle pagine del resto del carlino delle prime multe che stanno arrivando per i fumatori i fumatori che gettano le cicche e i mozziconi di sigaretta sulla strada nella strada senza buttarle negli appositi contenitori le nuove norme restrittive in materia di fumo porta anche questa insomma questa loro determina insomma devono devono fare in questo modo per le cicche gettare a terra prime multe in zona pantano vigili urbani in borghese hanno fatto tre verbali ai fumatori quindi scattano le prime le prime multe agli incauti fumatori e poi in basso c'è una proposta di un imprenditore il quale voleva mettere a disposizione insomma negli spazi pubblici dei posa cenere da lui inventati sperimentati ma non ha ancora ricevuto ricevuto nessun ok dal comune guardiamo l'ultima pagina che vi propongo sul resto del carlino di pesaro e si parla di di cronaca e di cronaca insomma non non piacevole perché i ladri tornano in una tabaccheria a brevissimo tempo due colpi in soli 15 giorni e insomma lo sfogo del titolare cambiamo le leggi che favoriscono i crimini è un sicurezza perché addirittura a questo povero esercente sono state portate via anche le sigarette che i colleghi gli avevano dato insomma per riempire gli scaffali e quindi portate via anche insomma le manifestazioni di solidarietà dei colleghi che lo avevano aiutato a rimettere in piedi l'esercizio vedete il buco che è stato fatto sfoddata la vetrina però insomma questi questi furti seriali non sono soltanto casi isolati ma anche un altro caso i cecchini che sono dei rivenditori storici di rio salso e anche loro portate via 270 mila euro e quattro furti insomma in sequenza però non gli hanno portato via insomma la voglia di stare sul mercato di fare la loro attività andiamo nelle pagine del resto del carlino che riguardano fano continuiamo con il quotidiano bolognese e si parla a fano del crollo di un crack di una azienda è crollato l'impero edilizio della coppia minardi taus un buco da oltre 100 milioni polo holding il fallimento dentro questo fallimento c'è anche il comune e poi nelle pagine di fano si parla di sanità ed è insomma un allarme che è stato lanciato nel mese di maggio dall'osservatorio di istituto zoo profilattico di umbra marche abruzzo e molise che sta ricercando le cause di questa diffusione di questo batterio è allarme listeria perché i colpiti due fanesi anche un'intossicazione alimentare che ha provocato anche due decessi nelle marche e questo batterio è ampiamente diffuso e ben tollerato nei limiti delle norme europee però può rappresentare un rischio per chi ha difese immunitarie molto basse oppure a causa di alcuni farmaci che si stanno prendendo in quel momento che sono degli immunosoppressori sono 13 casi registrati nel 2015 nella provincia di peso rubino 1 a urbino e 2 a fano ancora nelle pagine del resto del carlino andiamo a mondolfo dove c'è un'azienda una realtà a livello internazionale fiorente che ha azzeccato il suo il suo know how e la moretti forni che di recente al sigep di rimini la fiera internazionale del settore dell'alimentazione ha veramente fatto il pieno grande attenzione per i loro prodotti una bella realtà una realtà che da lavoro a 67 dipendenti puntando sulla cucina perché loro fanno dei forni e forni particolarmente graditi da pizzaioli e naturalmente hanno delle nuove opportunità di lavoro da offrire questo è una pagina bella della imprenditoria locale che giustamente merita il giusto risalto nelle pagine di pesero cambiamo testata andiamo nel corriere adriatico si parla di paternariato sociale sono sbloccati dei fondi della comunità economica europea ne arrivano subito 7 milioni tra pesero e fano è un progetto che coinvolge 40 comuni sindacati e università di urbino e i primi fondi appunto arrivano a pesero e urbino si fa sistema i comuni si mettono in rete e questi soldi serviranno sia per i punti 7 milioni per rimettere a posto decoro urbano e palazzi storici in modo particolare i fondi che arriveranno a fano serviranno per la riqualificazione del cortile degli spazi del complesso sant'arcangelo un museo del carnevale e una serie di interventi migliorativi e di spostamenti urbani da mettere appunto in rete anche i musei insomma tante tante belle cose che si possono fare grazie a questi fondi europei che arriveranno a breve poi nelle pagine di fano del corriere adriatico si parla di un monumento storico fanese amatissimo da tanti fanesi soprattutto quelli della zona del porto si parla della darsena borghese che appunto rivive rivivrà nuova gloria la storia che rivive darsena borghese si parte dalla terrazza superiore per il suo recupero il comune ha pronto un investimento di 110 mila euro e poi la giunta finanzi il recupero di quattro bagni pubblici sono quelli del pincio della sassonia di via le ruggeri e dei passeggi carnevale domani c'è l'ultima grande sfilata dei carri del carnevale edizione 2016 e quindi si parla appunto nella pagina del corriere adriatico del carnevale è un profumo di amarcord per un veglione il grande veglione che torna alla palazzina sabatelli e domani appunto ci sarà la sfilata finale insomma il veglione riguarda anche i bambini si comincia con i più piccoli con un sabato pomeriggio all'insegna della magia e del divertimento e poi domani per poi stasera per i più grandi invece il veglione il veglione mascherato dove saranno presenti anche i nuovi sindaci del carnevale che non erano in piazza giovedì grasso e noi naturalmente come fano tv televisione ufficiale del carnevale di fano seguiremo l'evento anche domenica con un ulteriore speciale che poi vedrete come sempre lunedì si parla ancora di filiera corta di economia e in che modo l'emporio a e mette a diretto contatto sia il produttore che i propri avventori e quindi un modo per conoscere da vicino che cosa si compra da dove viene e perché e poi la pagina di senigallia del corriere parla di un incidente travolto dal motorino il medico è in coma polemiche sulla segnaletica il magistrato fa girare un video ai vigili sullo stato delle strisce pedonali questa era la pagina principale che riguardava senigallia cambiamo testata l'ultima che vi faccio vedere è il messaggero la pagina delle marche che riguarda un po tutta la provincia di pesaro e ancona batterio killer due morti anche qui ripresa in primo piano la notizia che ho fatto vedere prima vittima d'ancone macerati sospetti sulla coppa di una ditta di monsano maternità piccoli ospedali oggi la maxi protesta e poi in fondo la foto notizia vedete l'incontro con papa francesco e ario costa gli auguri del papa per i 70 anni della vl ario costa dona una maglia che qui non si vede con la scritta francesco proprio al al santo padre il meteo del messaggero dice niente pioggia e molte nuvole quindi rassicuranti le previsioni del tempo del del messaggero vi faccio vedere la pagina di pesaro appunto che riguarda l'intervista in tv a varani lucia dice basta spettacolo e la madre solo bugie il programma l'altra sera ha scatenato una vera bufera anche il leghista calderoli protesta episodio inaccettabile e l'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di fano del messaggero a dirno a di pesaro il quartiere fieristico dice addio la città si divide si parla appunto della fiera di campanà la decisione di dare in affitto 4 cappannoni su 6 segna la fine di un'epoca il sindaco dice una scelta giusta bene questo era tutto per quanto riguardava la rassegna stampa di oggi grazie per essere stati in nostra compagnia naturalmente occhi giornali torna lunedì mattina alle 7 e 30 buon sabato e buon carnevale a tutti